Oggi corona un sogno di amicizia con una persona la quale ho sempre voluto bene e della quale riconosco l'umanità. A parlare Michele Emiliano, candidato sindaco del PD che dopo quello con Franco Albore porta a casa un altro apparentamento per il ballottaggio del 21 e 22 giugno prossimi con l'Udc di Lorenzo Cesa. L'amico in questione è il penalista Mario Russo Frattasi, candidato sindaco per l'Unione di Centro che si è detto emozionato non solo di collaborare con Emiliano ma anche di aver coronato le aspirazioni legate alle sue radici e alla volontà di partecipare alla crescita della città. Non abbiamo ambizioni di poltrone, ha detto Russo Frattasi, ma il desiderio di far del bene alla città. Io sono certo che vinceremo, ha concluso. Continueremo a fare una campagna elettorale nel segno dell'armonia e dell'allegria, ha detto dal canto suo Emiliano. Lo Stato ha bisogno di questa armonia e del rispetto reciproco. Oggi infatti apriamo il modello di governo di Bari, città dove è caduto il muro di Berlino. E a proposito degli scrutini, Emiliano ha invitato tutti i rappresentanti di lista a presidare i seggi per evitare presunti brogli e ha chiesto al prefetto una maggiore presenza delle forze dell'ordine per non influenzare il voto dei cittadini.